e tu scoprirai una banda di poveretti che non hanno una casa una casa per tre poveretti parte sono mezza morta non fate più questa cosa ma non l'abbiamo fatta noi sono state le scimmie creatrici sì io ho sentito la loro risata non sono state loro beh e la facciamo pagare nel frattempo vediamo come sa leone penso che non sia vivo è caduto un masso di palazzi in testa è vero forse non sta bene leone leone già leone dove stai dai dai che forse sei vivo leone no non dirmelo è di nuovo svenuto ma già l'altra volta era svenuto leone leone non va bene ma qui sta sanguinando ah ecco perché non si sveglia sta sanguinando qua sul muso sta sanguinando è strano ha sbattuto al muso io penso che ha sbattuto alla criniera no la criniera si è fatto un altro bernoccolo oh no no aiuto 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 il palazzo è crollato aiuto io scusate sono l'ingegnere dell'altra volta ma non è possibile è crollato tutto oh meno male che mi avete avvisato ce lo ricostruisci sì ve lo ricostruiremo ma ci sono voluti sei mesi per costruirlo mamma che bruttissime esperienze stavo per morire ah meno male leone sei ancora vivo sì sono vivo ma sono mezzo morto mamma che brutta esperienza che abbiamo avuto già meno male che ce lo ricostruiremo sì ve lo ricostruiremo ok aspettate voglio seguire dal palazzo che lo ricostruiremo togliti le nuove ok andiamo lampo